L'agenzia Giacomelli, nel corso del Novecento, ha accompagnato e documentato gli appuntamenti della Mostra del Cinema di Venezia, immortalando con ritratti e scatti d'ambiente alcuni dei suoi principali protagonisti. A poche settimane dall'apertura della 78esima edizione, in Aspettando la Mostra, abbiamo risfogliato alcune pagine d'album che hanno segnato la storia di questa secolare avventura veneziana, ripercorrendo i transiti lagunari di alcune personalità di grande rilievo nell'immaginario cinematografico del Novecento. Nel 1957 giunge a Lido il grande interprete di Hollywood Henry Fonda, protagonista del primo lungometraggio di Sidney Lumet, La parola ai giulati, presentato al festival fuori concorso. Fonda è una delle star più fotografate di quell'edizione, immortalato in più scatti da Giacomelli, a fianco della sua quarta moglie, la baronessa italiana Afdera Franchetti. Non mancano le fotografie a beneficio del gossip dell'epoca che ritraggono l'attore sulla spiaggia dell'Accelsior attorniato dai suoi fan.